A piccoli passi verso il rientro, Jacopo Segre ha effettuato ieri una prima parte di allenamento con i compagni per poi svolgere una seduta differenziata. La speranza è di rivedere in campo il centrocampista Rosanero ai box dalla prima amichevole del ritiro estivo l'1 settembre quando il Palermo farà il suo esordio stagionale al Barbera contro il Cosenza. Il suo recupero consegnerebbe a Dionisi non solo una variabile in più per la zona nevralgica del campo ma anche e soprattutto un uomo abile negli inserimenti in area di rigore che nella passata stagione gli hanno fruttato sette gol. Ed è proprio dei gol che il Palermo ha bisogno. Al di là della sconfitta, la partita contro il Brescia ha infatti evidenziato qualche difficoltà in fase offensiva. La squadra di Dionisi corre, pressa e costruisce, o almeno così è stato nella prima metà della partita del Rigamonti ma non riesce a tirare in porta. L'unica occasione dei Rosanero a Brescia porta la firma di Ranocchia che ha calciato da fuori area. Siamo stati prevedibili, ha detto lo stesso tecnico, nel postpartita che in vista del Pisa dovrà quindi lavorare anche su come sorprendere l'avversario. Ma in questi giorni a dover dare risposte non è soltanto la squadra guidata da Dionisi. La rosa del Palermo infatti è ancora da completare e Morgan De Santis ha nove giorni di tempo per farlo. A il Rosanero mancano un terzino sinistro bravo in fase difensiva, un difensore centrale veloce da affiancare a Nicolau al posto dell'infortunato Lucioni, un centravanti che meglio si adatti allo schema di gioco prescelto dal tecnico e un portiere. Quattro giocatori per quattro ruoli chiave e di questi al momento l'unico indirittura d'arrivo sembra l'affare legato al sostituto di Gomis con Salvatore Sirigu che è ad un passo dal tornare a vestire la maglia del Palermo. Grazie a tutti.